Il Milan vede sfumare l'attaccante, arriva la firma con un'altra squadra dopo il pagamento della clausola rescissoria. Il Milan è alla costante ricerca di un attaccante, obiettivo principale di questa fase del mercato rosso-nero, serve un sostituito all'altezza per Giroud, da questo tipo di colpo passeranno molte delle ambizioni del diavolo. Tuttavia, uno dei principali obiettivi milanisti sfuma.Secondo Sky Sports Deutschland, Serau Girasi è ormai prossimo al Borussia Dortmund. Il Milan ha monitorato a lungo il guineano dello Stoccarda, senza però affondare il colpo. I gialloneri, finalisti di Champions League, avrebbero definito l'accordo con il giocatore e il pagamento della clausola rescissoria di Girasi da 18,5 milioni di euro. Secondo il giornalista tedesco Florian Pletteberg, infatti, la cifra dovuta sarebbe più alta di un milione rispetto all'importo della clausola precedentemente noto.